Eh, ho sbagliato, ci stavo rispondendo, ho sbagliato. Non ci volevo togliere, adesso faccio un matrimonio passato. Ma c'è il sito, eh? Vero? Che cazzo? Come vuoi testa? Eh, come vuoi testa? No, no, per me è uguale, è differente, però magari... Ma è bello? Eh, cazzo! Adesso mi hai portato un mischiaggetto, è bello, ma... No, sono con dei ragazzi, sto parlando con dei ragazzi di... No, non è per me. No, delle altre, vabbè. Va bene, come vuoi testa? Beh, come vuoi? Oh ma anche di là sono internati va? Ma va un bianchetto del cazzo, si ma ce l'avevi fuori di più, l'hai mangiato? Si Ma il bianchetto del cazzo non so Grazie ragazzo, grazie mi hai salvato Che cazzo non so, sai che non mi ricordo Sarda